Risottino alla carbonara per Chef in Camicia Dopo aver marinato il tuorlo Prendiamo il guanciale e lo facciamo all'istarello Croccante e spettavolare E con il suo grasso andiamo a tostare il riso Dopodiché inizia la cottura Facciamo una bella polvere di guanciale Mantechiamo il riso con burro ghiacciato E pecorino de Roma Che crema! Impiattiamo il riso Polvere di guanciale Una carbonara un po' atipica Per tutti gli amici di Chef in Camicia Provateci anche voi Grazie